Ma quanto sono bella oggi! Ma guarda che capelli! E poi è pure sabato, incontrerò il mondo, ci sarà un sacco di gente e farò una strage, sono una stragnotta! Mamma mia, ma che gesto sono oggi? Per fortuna che devo andare a buttare le immondizie, chi vuoi che ci sia? Proprio oggi, faccio cagare! Oh, noia, guarda chi c'è! Ciao! 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 Di solito non va, lo potremmo fare buttando la strazzatura! Certo! Sì! Perché stavo... È difficile farlo! Andiamo, andiamo, andiamo ragazzi, ciao! Ciao, ci si vede! La coppia che scoppia! Se il video ti è piaciuto lascia un commento e metti mi piace alla pagina!